Ma sai, è giusto provarci, le fughe a volte arrivano, quindi dai, era giusto finire bene questo a Tirreno, adesso pensiamo ai prossimi appuntamenti. Senti, ma era difficile, ma ci si pensa, ci si crede sempre un po' di poter arrivare? Ma sai, tanti sono stanchi, alla fine, dopo le tappe che abbiamo fatto anche di ieri, sai, è giusto provarci. Adesso come proseguirà la tua settimana? Sarai tra i portatunisti della Sarriano? Ma io farò a Milano-Torino e poi la Sanremo, quindi dai, ora recuperiamo. Ma cosa vi è mancato per arrivare in fondo? Semplicemente hanno tirato troppo dietro o eravate troppo pochi? Ma c'era anche molto vento, abbiamo faticato in tanti, cioè in tre era difficile, però sai, siamo partiti subito all'inizio, era giusto provarci, magari sulle salite si sperava che qualcuno scattasse dal gruppo e potesse rientrare, magari poteva venire fuori una buona fuga, però non è stata così e alla fine era scontata la volata. Nella Stana non è stata una settimana facile, tu personalmente sei soddisfatto? Ah sai, ogni corso ha la sua storia, ieri giornata no, quindi penso ai prossimi appuntamenti. Io sono qui per lavorare sempre per la squadra, quindi faccio quello che mi chiedono e adesso penso ai prossimi appuntamenti, come detto, Milano-Torino e Sanremo. Grazie. 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 Grazie.